Salve a tutti, sono Benemino. Forse qualcuno di voi di particolarmente attento ai dettagli si era accorto che negli ultimi episodi non avevo più le cuffie col microfono su, che all'inizio avevo sempre. Questo è perché il loro stato attuale è qualcosa di questo tipo. Quindi sì, funzionavano, però dovevo tipo attaccarle e tenerle qua a fianco, non toccandole, sperando che la loro situazione non peggiorasse. Tuttavia, ora per fortuna ho un microfono molto più decente, non proprio chissà che di professionale, però molto più decente. Spero apprezzerete il miglioramento di qualità. Detto questo, allora, finora noi abbiamo visto assieme come fare diverse cose riguardo alla programmazione. Quindi pian piano abbiamo imparato a programmare su Game Maker diverse cose e così via. Tuttavia, nella creazione dei videogiochi ovviamente non c'è solamente la programmazione. Ci sono diversi altri aspetti, tra i quali le musiche. Quindi ora volevo farvi un periodo di qualche episodio riguardo appunto a come implementare, come fare diverse cose interessanti con le musiche. Sia su Game Maker che su altri programmi. Oggi partiremo appunto guardando un paio di altri programmi, molto utili sia per appunto creare da zero musiche, per videogiochi. Sia programmi per fare editing di musiche. Ora, il primo programma che voglio farvi vedere si chiama Bosca Sea Oil. Non sono sicuro, il 100% si pronuncia così perché è scritto molto strano, però è questo. Potete scaricarlo super facilmente cercando Bosca Sea Oil su internet. Aprite il primo link e qua fate download. Davvero super semplice. C'è anche l'opzione di usarlo online, però se volete il programma lo potete scaricare facilmente. E, boh, Bosca Sea Oil. Allora, abbiamo qua la cartella, lo apriamo. Ora, questo è il programma davvero più semplice per fare musica per... Cioè, non è per fare musica per videogiochi, ma per fare musica in generale e va bene per videogiochi. È il programma più semplice da usare, più veloce. Potete fare, se vi serve una musica in un quarto d'ora, la fate. Magari non è gran che il risultato, ma la fate. Quindi è ideale per iniziare se vi serve giusto una musichetta d'accompagnamento o nulla di speciale. Ora, è super semplice da usare. Vediamo velocemente come funziona. Allora, qua abbiamo un po' la schermata principale. Qua abbiamo un po' le impostazioni per impostare la velocità. Quindi, beats per minute deve essere questo. Quindi aumentando, diminuendo, cambiamo la velocità. Qua abbiamo di quanto sono composte... Praticamente quante battute abbiamo. E di quanti... Praticamente decidiamo un po' il tempo. Quindi se fare una musica a 4 o 3 di tempo, basta sperimentare un po'. Per esempio, se qua facciamo 3, vedete che queste colonne vengono ogni 3. E mettiamo, per esempio, 15, in modo che abbiamo 5 colonne da 3. Quindi facciamo, per esempio, un tempo ternario o binario, così via. Per ora, non ci interessa molto, lasciamo quello che è di base, che in genere va bene, quindi 4-16, e vabbè. Le cose più interessanti ce le abbiamo, e che vi interessano di più a voi, sono su strumenti. La terza... La terza cosa qua nel menu in alto. Qua possiamo creare gli strumenti che ci servono. Quindi, allora, di base abbiamo uno qua, che è il piano. Facciamo, per esempio, facciamo, aggiungi un nuovo strumento. Qua possiamo decidere, qua, il tipo in generale di strumento. Quindi, per esempio, qua è selezionato strings, quindi gli archi. Possiamo mettere strumenti a fiato, basso, strumenti... Questo è tipo roba, che ne so, tipo digitale, per fare appunto robe più per... In stile retro, per i videogiochi, va bene. Chitarra... Abbiamo davvero diverse opzioni. Prendiamo per ora, per esempio... Prendiamo, boh, prendiamo chiptune, che va bene appunto per... Videogiochi. E... Dopo qua abbiamo i diversi... Come per esempio, se avessimo scelto archi, dopo abbiamo i diversi strumenti precisi tra cui scegliere, i diversi suoni. Qua scegliamo, prendiamo una boh, per ora prendere uno a caso, tipo... Questo. E ok, dopodiché andiamo su arrangement, quindi qua abbiamo la struttura effettiva della nostra musica. Ora, qua abbiamo questo qua, la casella, lo spazio che abbiamo qua sotto, equivale a questo primo spazio. Quindi abbiamo 16... Possibili note da mettere, che rinterranno in questo spazio qua. Volendo, qua abbiamo tutti i diversi... tutte le diverse frasi che possiamo costruire, musicali. Che dopo, semplicemente cliccandole, le possiamo portare qua e disporre un po' come vogliamo. Tasto a destra le togliamo. Oppure possiamo fare Add New. E questa qua può avere anche diversi strumenti. Vedete che la prima, che c'era di default, aveva il primo strumento, ovvero il Gran Piano. Ora che ne ho creata una nuova, visto che avevo selezionato Soul Wave, me l'ha creata, vedete che è viola, abbina agli strumenti un colore diverso. Questa musica me la farà questo pezzo con, appunto, questo nuovo strumento che ho creato. Ora, fare musica qua è davvero super semplice. Basta andare qua, fare tasto destro, qua avete tutte le note. Le note sono scritte in inglese, quindi non sono Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ma partono da, per esempio, l'A equivale all'A, e da lì partono A, B, C, D, E, F. Quindi fino al Sol che è F, sì. E poi avete quella diiesis, indicate dal cancelletto, quindi, appunto, diiesis. Ora, basta fare un click per mettere qua una nota. Tenendo premuto e spostando il mouse, lasciamo una scia di note. Quindi, per esempio, questo, se, allora, togliamo questo e mettiamo piuttosto questo qua, suonerà così. Boh, magari non il massimo dei suoni, aspetta che tolgo qua il volume. Non il massimo dei suoni, però avete capito l'idea. Ora, quindi, andando su e giù, disponeremo cose particolari, così. Dopodiché, facendo su o giù con la rotella del mouse, possiamo allungare la durata della nota che mettiamo. Quindi, per esempio, posso farne una lunga 4 direttamente. E poi l'accorcio, non può andare ovviamente sotto a 1. Dopodiché, vediamo altre cose interessanti. Allora, su strumenti possiamo creare anche il... Con drum kit facciamo le percussioni. Quindi facciamo add new. Ce lo fa grigio, che è il colore delle percussioni, appunto. Vediamo, facciamo per esempio... Proviamo a fare qualcosa di super veloce. Ok, e facciamo così. Vediamo come è il risultato. Ok. Ora, velocemente, andiamo qua. Riprendiamo surwave. Un'altra cosa molto interessante. Allora, intanto vedete che qua andando su e giù, andiamo... Cambiamo ottava. Qua, a destra, vi segna in che ottava siamo. Quindi qua, per esempio, sesta, quinta. Quindi andando su, ci sarà un suono più alto, ovviamente. Una cosa molto utile che possiamo fare, che rende davvero facile usare questo programma, è... Vedete qua sotto che c'è l'opzione... Uh, probabilmente voi non lo vedete perché ho la faccia io. Ecco. Vedete che qua avete l'opzione scala normale. Questo vuol dire che qua avete l'opzione di mettere tutte le note possibili. Se noi facciamo click, ci apre questo menu e possiamo mettere scala maggiore, scala minore, blues, harmonic minor. Dovremo un sacco di opzioni. E vediamo che abbiamo pure cose particolari, come per esempio la scala cinese, scala arabica, ispanica, e così via. Ora, se non siete troppo familiari con questioni di musica, ve la metto molto semplice. Se voi mettete qua nella scala normale, che ha tutte le note, se mettete note a caso, quasi di sicuro verrà fuori uno schifo. Se impostate una scala, per esempio mettere una scala maggiore, vi toglie alcune note e farà in modo che voi potete fare... mettere le vostre note solamente in alcune. Per esempio qua, se non sbaglio, dovrebbe essere la scala di Do maggiore. A, B, C, D, E, F, G, esatto. Sì, scusate, G è Sol, per me avevo sbagliato. Quindi questa è la scala di Do maggiore. E cosa vuol dire che è scala di Do maggiore? In poche parole, per metterla super semplice, ora tutto ciò che ci scriviamo dentro suonerà relativamente bene. perché è nella stessa scala e quindi le note tra di loro suoneranno decentemente. Quindi proviamo qua per esempio a fare una cosa super semplice, per esempio... Non so bene come potrebbe suonare. Bene, abbiamo fatto una robetta proprio super semplice, super veloce, però vedete che anche facendo in così poco i risultati sono... cioè non è un pezzo di musica a caso, è qualcosa che suona a grandi linee decentemente. Ok, detto questo, qua abbiamo delle opzioni per modificare un po' il suono dei singoli strumenti. Per esempio qua a destra abbiamo il volume, possiamo alzare e abbassare, e qua possiamo applicare un filtro, quindi per esempio se lo facciamo partire... In base a dove posizioniamo questo quadratino cambia un po' il suono. Ok, poi su Advanced vediamo... Va, nulla di particolarmente interessante. Delay... Ma... Potete provare volendo a giocare e vellare su queste cose, ma non è nulla di essenziale. Le cose importanti a grandi linee le abbiamo già viste. Dopo, se volete fare che cambia la melodia, basta fare Add New, sempre con lo strumento su Wave, e ne mettiamo uno nuovo qua. La base mettiamo sempre questa, e questo magari avrà qualcosa di diverso come si sviluppa la melodia. Oppure possiamo mettere di nuovo il 2, e va avanti così, e dopo cambierà. Ok, quindi a grandi linee avete già imparato a usare Bosca Sea Oil, è davvero super semplice. Ah, poi l'importante c'è il fatto che qua, potete, con questo pulsante qua, fate e salvate il progetto, mentre con Export lo esportate e lo trasformate in un'effettiva musica. Quindi possiamo fare Export, abbiamo, vediamo come opzioni... No, facciamo UAV, qua non c'è l'opzione di fare in MP3, ma UAV va ugualmente bene. Lo fa andare per un attimo e dopo ci chiede come vogliamo salvarlo. Gli diamo un nome e lo salviamo dove vogliamo. Boh, non so salvarlo perché non mi interessa. Comunque avete visto, è super semplice da usare. Quindi, vantaggi, semplice, veloce ed intuitivo. Svantaggi ha un limite di qualità, nel senso che non è che potete farci cose super interessanti, cioè, di interessanti sì, ma non possono venire fuori robe davvero particolari. Quali sono i limiti più precisamente? Intanto che non possiamo applicare particolari effetti agli strumenti. Che ne so, una roba tipo l'eco o il vibrato non si possono applicare. Poi, che ad uno strumento possiamo assegnare un volume, ma sarà quello per tutto il tempo. Non possiamo fare che ha un momento che si abbassa il volume o uno che si alza. Sarà così. Scegliamo se quello strumento ha alto o basso e fine. E poi, il problema principale, alcuni strumenti hanno una qualità così così. Per esempio, il piano proprio. Se non sbaglio, la togliamo questi un attimo. Se non sbaglio, il piano fa un po' schifo. Anche se è uno strumento abbastanza importante. Sì, boh. Comunque, usandolo, vedrete che magari qualcuno non è proprio come vi sarebbe piaciuto. In ogni caso, questo programma va benissimo per cosa? Se dovete fare le musiche velocemente per un giochino che non vi interessa, che abbia una grandissima qualità audio. Tanto per fare un esempio, per Twin Strikers, il gioco che abbiamo fatto, che è uscito un paio di mesi, qualche mese fa. Ho fatto le musiche proprio con questo programma perché non mi interessava che avesse robe sensazionali. Quindi ho fatto super velocemente, tipo 20 minuti ciascuna per le due musiche che ha, fatto qua a posto. E sono venute robe comunque decenti. Se no, va bene, boh, per iniziare in generale. E poi, magari, è un caso più specifico, ma se per caso doveste trovarvi più avanti a fare delle gem, come avremmo fatto noi questo ottobre. Quindi creare un gioco, tipo, in tre giorni. Questo qua va benissimo per avere delle musiche che suonino comunque decenti e fatte super velocemente. Ma mettiamo che vogliate qualcosa... No, non tu. Mettiamo che vogliate qualcosa di un po' più articolato, più interessante. In questo caso c'è un altro programma, super comodo. Comunque molto buono, che si chiama Famitracker. Famitracker, anche questo è gratuito, potete scaricarlo super facilmente. Andate qua sul sito di Famitracker e fate download, ve lo scarica diretto. Super semplice. Famitracker è stato creato per creare musiche un po' nello stile del NES, quindi la prima console Nintendo. Quindi comunque un po' a retro. Ora, vediamo subito che ha un'interfaccia un po' rispetto a Boscassioil, un po' già meno intuitivo. Abbiamo più cose, è già più... ha un aspetto un po' più intricato. Ora, Famitracker è un bel po' più complicato da usare. Non difficile, però ci vuole un po' di prenderci la mano. Però può dare risultati molto, molto migliori di Boscassioil. Non vi insegnerò adesso come usar Famitracker perché solamente spiegarvi questo richiederebbe... solamente spiegarvi le basi richiederebbe almeno un paio di episodi dedicati solo a quello. Quindi lo farò più avanti, ma non oggi. Quindi per ora sappiate che c'è. Se volete ci sono altri tutorial su internet, ma mi sa che sono solo in inglese. Se non avete problemi con l'inglese, è a posto. Vi dico solamente velocemente. Allora, sì, è più complicato da usare, ma dà risultati molto migliori. Se vi interessa, degli esempi sono... La colonna sonora di Shovel Knight, un gioco indie che ha avuto moltissimo successo. è stata scritta, è stata creata tutta con Famitracker. Ed è una bellissima colonna sonora. Vi consiglio infatti di provare a darvi un ascolto se non la conoscete. Tuttavia, Famitracker è un programma che già richiede molta più conoscenza dall'utilizzatore. Nel senso che dovete sapere un po' di musica. Cioè, qua non viene bene semplicemente mettendo note a caso. Qua dovete sapere cosa state facendo. Quindi, cioè, comunque si può essere usato da tutti, però boh, richiede più preparazione. Inoltre, non sono sicuro al 100%, ma credo che anche le musiche di Undertale siano state create con Famitracker. Però non sono sicuro al 100%, quindi non prendetelo come assicurato. Detto questo, questi sono i due programmi migliori per creare music... Gratuiti. Per creare musica per videogiochi, soprattutto per in stile retro. Quindi pixelosi, un po' così. Ora invece vediamo un nuovo programma... Beh, un programma che invece serve per l'editing. Piuttosto che per la creazione di musica. Questo si chiama Audacity. Ed è davvero un programma utilissimo. Anche questo dovrebbe essere piuttosto semplice da scaricare, visto che... Anche questo è gratuito. Ora, Audacity quindi serve per l'editing delle musiche. Vi chiederete, se creo la mia musica, a cosa mi serve l'editing? Beh, in vari casi non serve a molto. Effettivamente qua sta facendo fatica a caricare, probabilmente un po' i problemi con l'internet. Boh, vabbè. Bene, avevo appena caricato. Boh, vabbè. Comunque è facile da scaricare. In ogni caso, a cosa serve? È utile... No, boh. Prima vi faccio degli esempi a parole, dopo vi faccio vedere. È utile intanto per aggiustare... Se avete delle tracce... Per esempio dovete tagliare dei pezzi... Oppure fare che si riproduce due volte... Allora copiate e incollate. Tanto per gli esempi più basilari. Oppure un altro esempio è che quando esportate una musica da Bosca Sea Oil o anche da Famitracker... Quando finisce e quando inizia in generale ha tipo un pezzetto super corto di silenzio... Che però se voi da game maker la mettete in loop... Quando la musica finisce e deve ricominciare sentite uno stacco molto fastidioso. Con Audacity possiamo super facilmente togliere quel momentino di silenzio... E così la musica si riproduerà in loop molto più naturalmente. Tuttavia sono davvero tantissime le cose che possiamo fare con Audacity. Ed è... Adesso vi faccio vedere degli esempi. Allora mettiamo per esempio che vogliamo importare... Facciamo apri... Vediamo... Cerchiamo una musica in giro... Calcio 2... Calcio 2... Neanche mi ricordo cosa sia... Questi... Ah facciamo questa... Quella era quella del menu... Ok... Esatto... Questa era quella che avevo usato anche nel nostro gioco... Nel tutorial... E la musica del menu di TwinStriker... Se l'avevo usata anche là per il gioco... Quindi ormai la usiamo per tutti gli esempi... Adesso credo non me lo faccio partire perché sto facendo andare a Audacity anche per registrare il... Registrare l'audio... Quindi probabilmente non si possono fare robe se ce ne due è aperti contemporaneamente... Boh... Farò meno... In ogni caso... Possiamo qua con... Facendo CTRL e rotella su e rotella giù... Possiamo farlo zoom sulla traccia audio... E dopo ci spostiamo qua... Vediamo già che all'inizio c'è questo momento di silenzio... Allora, super semplicemente posso fare click... Selezionare questa zona... E con Canch la tolgo... Quindi sarà già... Non ci sarà quel pezzo con lo stacco all'inizio... Vediamo se alla fine è a posto... Sì, alla fine è a posto... Quindi questo è un primo esempio... Dopodiché mettiamo che vogliamo che... Fare che... Dopo che ha fatto una prima riproduzione... Si riproduca di nuovo... Ma dopo abbia una leggera variazione... In quel caso possiamo fare doppio click... Per selezionare tutto... D'accordo... Eccomi di nuovo... Avrò avuto un paio di problemi... Avevo paura di aver perso tutto ciò che avevo registrato... Però... Per fortuna non è stato un grosso problema... E tra l'altro mi sono accorto che probabilmente... Avevo l'icona col riquadro rosso... Dell'immagine per tutto il tempo... Però vabbè... Non è un grande problema... Quindi stavano dicendo... Cosa stavano dicendo? Credo che avevo appena incollato qua il... Avevo fatto copia e incolla... E quindi l'avevo incollato qua... Ora... Quindi... Super semplicemente possiamo... Copiare e incollare pezzi... Selezionare e tagliare un determinato pezzo... Quindi... Questo può essere molto utile in vari casi... Poi vediamo altre cose interessanti... Se io metto qua il cursore... E faccio modifica... Vado su Limiti clip... E faccio dividi... Ok... Ora cosa succede? Se io vado qua... Vedete qua sopra ho gli strumenti in generale... Posso usare... Questo qua che è selezionato... E quello per scegliere un punto e selezionare... Sezioni di audio... Io prendo questo qua che ha le due freccette... E... Cliccato questo che ora l'ho... Ho fatto dividi... Dalla parte prima... Posso spostarlo avanti e indietro nel tempo... Quindi... Ora boh... Non posso farvi sentire bene l'audio... In teoria... No, non posso... Vabbè... Però arriverà qua e ci sarà uno stacco... Non so perché dovremmo volerlo qua... Ma in vari contesti potrebbe essere una cosa che vogliamo... Ok... Detto questo... Un'altra cosa super interessante... Che possiamo fare con Audacity... È applicare a determinati pezzi di audio... Degli effetti particolari... Per esempio se io seleziono qua tutta la seconda parte... Potrei fare... Vado qua su effetti... Devo selezionare qualcosa per fare gli effetti... Potrei mettere per esempio... Echo... Qua mi chiede delle impostazioni per l'eco... Adesso non mi importa vedere molto bene tutto quanto... Faccio ok... Ora non riesco a farvi sentire... Di nuovo purtroppo... Però... Avrà l'eco tutta questa parte... Dopo... Posso per esempio fare... Ora vi faccio vedere proprio gli effetti più... Importanti... Più interessanti... Allora se seleziono... Magari la parte finale qua... Posso fare... Dissolvenza in uscita... E ridurrà il volume verso la fine... Quindi avete presente... Quando ascoltate una musica su YouTube... E magari alla fine pian piano svanisce... Con questo effetto possiamo farlo super facilmente così... Dopodiché... Altri effetti interessanti... Allora... Uno... Super... Beh... Facendo cambi a tempo... Possiamo far sì che... Un determinato pezzo che abbiamo selezionato... Si riproduca più velocemente o più lentamente... Senza cambiare però... L'altezza del suono... Avete presente che di solito... Se rallentate viene tutto tipo... Più basso... E parallelamente se alzate la velocità diventa tutto alto... Come... Quando mandate avanti velocemente... Avete presente immagino l'effetto... Facendo cambi a tempo non succede... Solamente va più veloce l'audio... Poi... Cambia intonazione... Cambiate invece solamente l'altezza del suono... Per esempio se seleziono una parte così... Cambia intonazione... Ci chiede... Vedete... Frequenza da... A... Oppure possiamo semplicemente cambiare con questa... Levetta qua... Super semplice... La stessa cosa vale anche per il tempo... C'è una... Una cosa che... Questa levetta che possiamo prendere e alzare e abbassare semplicemente... Infine c'è un ultimo... Ehm... Un ultimo effetto super interessante... Ora... Non so se qua posso... Faccio una cosa per sicurezza... Salvo di nuovo questa... Perché prima ho rischiato di perdere tutto... Quindi... Ehm... Dove è salvo? Ah, controllo S... Ok, allora... Cosa ho fatto? Ho fatto velocemente su questo file una registrazione... Ho dovuto un attimo stoppare l'altra perché non potevo farne due contemporaneamente... Quindi ho fatto una registrazione... Qua... C'è semplicemente... Il... Qua è silenzio semplicemente... E qua ho detto delle cose a caso... Ora... Qual è il problema? Normalmente se fate una registrazione... Ehm... C'è sempre... Delle rumore di fondo... Ehm... Potete sentirlo di sicuro se andate nei miei vecchi video... Lì c'era di sicuro il... Sentivate tutto un... Di fondo... Cos'è quello? E... Qua non si vede neanche troppo però... Se fate molto zoom ci sono delle specie di ondire super piccole... Ora... Con Audacity... Si può fare una cosa comodissima... Ovvero... Eliminare il suono di fondo... Se noi prendiamo un pezzo a caso... Così... Di... Dove c'è il silenzio... Facciamo Effetti... Riduzione rumore... E facciamo Elabora profilo rumore... Ora lui ha salvato questo pezzo qua come rumore... E si ricorda che una cosa di... Una linea sinuso idrale di quel tipo è rumore... Ora se noi selezioniamo tutto... Facciamo di nuovo... Riduzione rumore... E stavolta qua... Abbiamo diversi dati che possiamo anche mettere... Per in genere va bene quelli di default... Anzi di default se non sbaglio c'è qua 12... Io metto 18... E facciamo Ok... Adesso... Qua non si nota troppo però... Ha tolto sia dai pezzi dove c'era silenzio... Sia da dove c'era la mia voce... Le onde sinusidali che ha riconosciuto come rumore... Quindi che erano simili al pezzo che avevo... Che gli avevo detto prima... Questo è rumore... L'ha tolto... E quindi adesso... Qua ci sarà silenzio... Qua ci sarà la mia voce senza rumore... Quindi questo è utilissimo se dovete fare delle registrazioni... Sia di voce come sto facendo io adesso... Sia... Magari se dovete registrare degli strumenti... Per fare una musica strumentale da mettere nel vostro gioco... Ecco... Ok... Quindi... Questo è... Credo siano tutte le cose fondamentali di Audacity... Boh... Qua avete... Se volete fare play o stop di una musica... Con questi rimettete il puntatore all'inizio o alla fine... E con questo pulsante registrate... Qua potete regolare il volume del microfono e il volume degli altiparlanti... E avete poi qua le funzioni... Che sono in realtà abbastanza... Cioè si capiscono a grandi linee... E non sono chissà che importanti... Principalmente... Ovviamente ci sono molte cose più articolate... Che si possono fare... Ma abbiamo visto a grandi linee le cose più importanti... Quelle che ci serviranno... Quindi... Per ora abbiamo visto dei programmi esterni... Molto utili... Nel prossimo episodio voglio farvi vedere... Come usare questi... E poi anche robe su GameMaker... Per fare diversi effetti interessanti sulle musiche... Proprio durante il gioco... Per esempio alzare o abbassare il volume di una musica... Oppure avete presente che c'è spesso nei giochi... Nelle musiche c'è tipo un pezzo... Tipo una frase iniziale... Di introduzione... E dopo di quella... Un pezzo che va in loop... Solo quello... Quindi... Impareremo a fare che appunto... C'è questa frase introduttiva... E dopo... Quando la musica è finita... Riparte da un pezzo intermedio... Saltando la frase iniziale... Ok... Questo e altro... In teoria... Nel prossimo episodio... Per oggi vi ho fatto vedere... Le cose fondamentali che volevo farvi vedere... Mi spiace che... Non posso farvi sentire anche le cose qua... Per farvi notare... I risultati degli effetti... Però... Quanto poi non funziona... Usando due file di audacity contemporaneamente... Vabbè... Magari potete scaricarle... E provare un po' da voi... Quindi... Se avete domande... Ovviamente chiedetemi... Ehm... Per ora... Grazie per aver seguito... E al prossimo episodio... Arrivederci... Grazie per aver guardato... Grazie per aver guardato...